Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con una nuova presentazione, un saluto a tutti quanti ed eccoci qua finalmente con la simulazione del nostro amico generatore Purtroppo ragazzi, purtroppo, abbiamo avuto un piccolo imprevisto per quanto riguarda la nostra cinghia di trasmissione, eh sì, purtroppo sì Nel senso che tutte le cinghie che ho, purtroppo, sono troppo grandi e quindi abbiamo dovuto tagliarne una Utilizzeremo quindi, come al solito, abbiamo detto la classica cinghia, ok, perfetto, quello è appunto trapezoidari, pervene, perfetto Ma utilizzeremo appunto quella, cioè appunto la stessa del nostro motore appunto della lavatrice Che ovviamente, essendo già dentellata, io spero che si veda un secondo perfetto ingrandimento, grazie Allora, appunto, essendo già dentellata, automaticamente è fatta apposto appunto per il perno del nostro motore appunto della lavatrice Che il quale automaticamente trasferirà appunto il moto di rotazione, moto appunto rotatorio, perfetto All'altro nostro amico, chiamiamolo così, motore morto E sì, perché automaticamente avremo il nostro motore appunto che rappresenterà quindi la nostra forza motrice principale E quindi invece avremo dall'altra parte, appunto sul lato opposto, avremo quindi tra virgolette un motore morto Oh, oh poverino, ma tutto bene, nel senso, io spero che ti riprendi Perfetto ragazzi, come motore morto intendiamo chiaramente un qualcosa di completamente fermo Che deve essere quindi automaticamente avviato Perfetto, io spero, io spero ragazzi che la cinghia non faccia scherzi Perché purtroppo, come appunto possiamo vedere, ho dovuto aggiuntarla così orrendamente con uno schifoso pezzo di nastro isolante Eh, lo so, lo so, lo so Questa qua più o meno però sarà quindi la dimensione, o meglio la lunghezza della nostra cinghia Ok, e ricordiamo, ramo condotto, perfetto, e ramo conduttore Li ho avvertiti? Ditemelo voi ragazzi, che tanto lo sapete che io mi confondo sempre Perfetto ragazzi, quindi fissiamo il nostro amico motore appunto della lavatrice, perfetto Ha un piano del nostro tavolo, perché ovviamente non dovrà muoversi Perché automaticamente ha la sua bella forza, bene E quindi invece dall'altra parte mettiamo il nostro amico generatore Perfetto ragazzi, siamo già collegati con il nostro amico alimentatore Ciao alimentatore, come va, tutto bene? Sì, sei pronto a fornire energia al motore appunto della lavatrice? Sì, ah perfetto, io sono pronto, voi siete pronti? Beh, a questo punto non resta che partire Alt, dimenticavamo Abbiamo già attaccato il nostro amico carico ovviamente all'uscita dei poli appunto del nostro amico generatore O meglio alternatore La classica lampadina ragazzi, ormai la riconosciamo in memoria, giusto? E' sempre lei Classico elemento resistivo, ok? Così abbiamo anche una bella richiesta di corrente, ok? Rappresentato quindi dalla nostra lampadina in cadecenza In questo caso arancione, perfetto, 12 volt o 14, mi confondo sempre Ecco, vediamo qua sotto un alimentatore ragazzi Non confondiamoci, l'alimentatore principale è sempre lui Questo qui è un alimentatore che servirà solamente da fare appunto Per mettere appunto, attaccare, si attaccare Posizionare il nostro alternatore in zona sopraelevata Ok? Cosa importantissima, la cinghia Possibilmente ragazzi, ovviamente, questa qua è solo una simulazione Ma la cinghia in questo caso, ok? La mettiamo leggermente verso l'alto Questo per distribuire meglio le forze che si depositano appunto, che si formano appunto Le vibrazioni sulla cinghia Perfetto ragazzi, io sono pronto Loro sono pronti E allora adesso Un secondo, un secondo, perché purtroppo dovremmo dargli un avviamento magari manuale Perché purtroppo appunto la cinghia è stata giuntata No, parti da solo Bravo che parti da solo Un secondo, perché slitta Vediamo, quando arriva a quel punto lì automaticamente slitta Per cui, ok, vuoi una spintorella? Dai che ti aiuto io Ecco, e la lampadina inizia ad accendersi Aumentiamo un po' la velocità Perfetto Ovviamente ragazzi, questa è una simulazione Adesso però dobbiamo spostare un po' il nostro amico motore Perfetto Il nostro generatore Perché ovviamente se no la cinghia non è in tensione Perché il nostro motore appunto Della lavatrice è fisso Ok, ma il nostro invece Generatore, alternatore È mobile E solamente appunto appoggiato sopra Ed ecco qui Che inizia a produrre elettricità Perfetto Se la cinghia è in tensione Pur essendo sul bordo Sull'estremità del nostro amico perno motore Del nostro alternatore Non cadrà Perché comunque resta in tensione A causa della forza di trasmissione Perfetto ragazzi Ah che bella luce Beh insomma luce Una bella luce è una parola grossa ragazzi È un po' fiocca Aumentiamo un po' la velocità Ho poco da aumentare però Perché siamo già a 28 volts Perfetto ragazzi Mamma mia questa cinghia male giuntata Veramente giura da schifo Guardiamo la difficoltà tutte le volte Che incontra la giunzione Esattamente appunto sul perno Eccolo qua Orribile Orribile Mamma mia che brutto Ok ragazzi Direi che abbiamo visto appunto La nostra simulazione Spegniamo tutto quanto Ed ecco quindi Che il nostro amico generatore Il nostro amico alternatore Perfetto Sarà fatto girare Dalla nostra ruota Per cui questa è una simulazione Dove appunto utilizzeremo La forza motrice principale Che automaticamente Sarà poi esclusa E al suo posto Sarà preso appunto Dalla forza dell'acqua Perfetto E ovviamente poi Metteremo la ruota E ci 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 Perfetto ragazzi Perfetto Ok No tutto ok Sono abbastanza soddisfatto L'unico problema Voi cosa dite ragazzi Sto parlando un attimo con loro Eh sì Non sono contenti Non sono contenti E se hai ragione Tu potevi girare Al triplo della velocità Se non c'era questa cinghia Schifosa purtroppo giuntata Eh sì Perfetto Lo so Lo so Lo so Vabbè provvederò Dai farò Farò qualcosa La prossima volta Ok ragazzi Eh Perfetto E allora Ciao a tutti Salutateli Salutateli Non siate timidi Ciao a tutti ragazzi E ci vediamo Nella prossima presentazione Ciao